Stasera abbiamo vinto una partitella e quindi che ti devo dire, la vera Seer è quella che ci ha fatto sognare nella regular season, è quella che è la vera Seer dove si batteva bene, si riceveva bene, dove ci aveva un gioco così con Leone alla punta, alla cima, però anche gli altri facevano la parte loro. La vera Seer che sogniamo vorrà essere quella, però abbiamo vinto una partitella e abbiamo visto che dei fondamentali tipo la ricezione li abbiamo attivati, vediamo, adesso andiamo su con un po' più di morale che ci fa bene perché non dormivamo la notte. Io penso che mi rammaricava una cosa, che se io dormivo poco la notte, tu dico immagina i giocatori, l'allenatore che dormono poco la notte e arrivano in partita che sono stanchissimi sotto un treno, quindi io pensavo questa partita come un bel 3-0 25-15 per Civitanova, però... La reazione c'è stata, c'è stata, c'è stata e quindi che vi devo dire, c'è stata e poi Civitanova non ha giocato male, cioè non è che ce l'hanno regalata loro, mi faccio notare che Gabi Garzia ha fatto sul quarto set, mi pare 5 su 5, 6 su 6, quindi è una cosa incredibile.